Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina, che sta vivendo una situazione delicata, mentre auspico che tutte le componenti del Paese si adoperino per superare l'incomprensione e per costruire insieme il futuro della nazione, rivolgo alla comunità internazionale un accorato appello affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia.